Chi vuole il champagne? Ho trovato, ho avuto una splendida idea, perché non ne approfitti per raccontarmi nei dettagli la notte di sesso sfrenato che hai avuto con Colin a Los Angeles? Veramente quella notte l'ho scaricato, razza di deficiente Sulla vostra sinistra vedete le cime della sierra che scintillano alla luce del mattino Vedo che adesso ti interessa, se pensi che riprenderemo il discorso di Los Angeles hai capito male, hai sprecato la tua chance Oh, ti prego, io non ho mai avuto una chance con te Mentre alla vostra destra c'è lo splendido fiume sacramento che certeggia attraverso questo paesaggio cromatico Le dispiace smetterla? La ringrazio Hai ragione, ho avuto una momentanea senza di giudizio quando erroneamente ho creduto che fossi diverso, è evidente Oh, davvero? Come sarebbe a dire? Sono Mike Chadway, guardo le ragazze in gelatina, mi piace potere come una scimmia, innamorarsi è terrificante Oh, per l'amore del cielo, ecco la prima Sì, esatto, l'hai detto, è terrificante, specie se mi innamoro di una nevrotica bionda Io non sono nevrotica, innamoro Ho detto che sono innamorato di te e l'unica cosa che hai sentito è nevrotica Perché sei la definizione di nevrotica No, la definizione di nevrotica è persona che soffre di ansia, di ossessioni ricorrenti, gesti compulsivi e disturbi fisici senza alcuna causa Silenzio Ancora una volta ti ho detto che sono innamorato di te e tu invece non fai che citarmi una pagina del dizionario Sei innamorato di me? Perché? Bella domanda del cazzo, ma è vero Grazie a tutti